E ora se l'hai comprato il blocco? Ah no... Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Egg Wars Visto che questa serie vi piace talmente tanto che ogni volta lasciate tanti mi piace Voglio fare un giochino con voi Esatto, sono proprio curioso di sapere a quanti mi piace riesce ad arrivare questo video Nei primi 10 minuti dal caricamento Quindi io carico i video alle 2, lo sapete tutti quanti ormai praticamente Quindi alle 2 e 10 sono proprio curioso di vedere a quanti mi piace riesce ad arrivare Secondo me non supererà i 300 Vediamo dai 300 mi piace in 10 minuti mi sembrano abbastanza normali e ragionevoli Chissà, chissà dimostratemi il contrario mi raccomando E oggi ci troviamo nella mappa delle costruzioni A me piace tantissimo questa mappa lo sapete bene tutti quanti E soprattutto a me piace tantissimo che cosa? Cosa mi piace? No, non il sushi Mi piace tantissimo vincere, cioè il sushi mi piace pure tantissimo Per carità a chi non piace il sushi? Dubito che ci siano persone al mondo che dicono No a me il sushi non piace, no forse ci sono Sapete come c'è gente che dice che non gli piace neanche la pizza Quindi immaginatevi C'è gente abbastanza strana qua in giro nel mondo Ma comunque non è il sushi che mi piace tantissimo Ma mi piace molto questa mappa E soprattutto la cosa che mi piace di questa mappa è Che io posso prendermi tantissimi diamanti Sin dall'inizio Tanti materiali E dominare tutti quanti In continuazione Proprio ho intenzione di uccidere tutti Anche perché già l'ho fatto diverse volte Ho giocato e anche caricato nel canale diverse partite Dove vincevo uccidendo tutti quanti i miei avversari Ma soprattutto c'è un problema Anzi non è un problema perché l'ho scelto io Ho scelto di giocare questa partita con mezza vita Alcuni di voi me lo chiedono Ma Kendall come fai a giocare le partite con mezza vita O con tre file di cuore eccetera eccetera Semplicemente io avendo il rank youtuber Posso scegliere determinate cose Come per esempio se giocare le partite Uh guarda quello Quello verrà contro di me ragazzi ve lo assicuro Allora è meglio se ci equipaggiamo molto bene già dall'inizio Dicevo posso scegliere se giocare le partite Normali con per esempio armi normali eccetera Oppure se giocare direttamente partite con poca vita e quant'altro In questo caso io ho scelto di giocare con soltanto 5 cuori E c'è questo Yoshi che vuole venire qua Yoshi vuole venire qua e mi vuole rompere l'uovo Ora sicuramente lui non ha neanche un piccone per rompermi l'uovo E quindi non riuscirà a farlo comunque in ogni caso Ce l'ha il piccone no che non ce l'ha vedete Vedete che non ce l'ha il piccone e l'abbiamo pure buttato giù Molto bene Ora io ho una cotoletta Una cotoletta che mi potrebbe servire comunque per tante cose Lui dubito che cercherà di venire di nuovo a casa mia Perché se lo fa è un pochettino nei guai però Noi teniamo un occhio su questo Yoshi Sì lo sto facendo vuole tornare da me No 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 Ce la fa? Ce la fa prima di me? No non ce la fa per niente prima di me E nel frattempo abbiamo anche un fan Joe 100 No Joe 1327 che mi scrive Vai tifo per te fai bene Fai bene a tifare per le squadre vincenti Perché ovviamente per chi vai a tifare? Mica si tifa per i perdenti No non è vero Si tifa in realtà per tutti quanti ragazzi Perché l'importante è giocare È il gioco di squadre Lo sappiamo bene tutti quanti Ma soprattutto io voglio vincere Quindi abbiamo una spada buona Io così quasi mi faccio un bel upgrade qui Sì Lui sta cercando di venire di nuovo contro di me Ora probabilmente lo ha preso il piccone Quindi bisogna stare veramente attenti ragazzi Perché se ora ha il piccone me lo può rompere l'uovo Da un momento all'altro Io comunque ce la metto un'altra piccola protezione Tanto per in modo tale che non può venirmi a dare fastidio Oh si è preso il piccone E forse ha anche una spada No 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 La spada non ce l'aveva È il fan che mi scrive Attento Bravo Complimenti che mi aiuti Veramente Io sono contento che i miei fan siano così bravi E quando mi vedono in partita Sono super contenti di vedermi E gli screen Tra l'altro per chi me lo chiede Piccola parentesi Io gli screen ragazzi Li do a tutti Tutti Cioè non dovete neanche chiedermelo Se vi fermate davanti a me Ho capito che volete lo screen Quindi ve lo do Non dovete dire Kendall ci possiamo fare uno screen E io poi vi devo rispondere Sì E poi voi ve lo fate No Fatevelo e basta Direttamente ragazzi Non c'è alcun problema Togliamogli questo blocco qua Così magari Non riesce a saltare Se non ha Ce l'ha altri No mio dio Non ci credo Non ha altri blocchi Io riuscirò a vincere questo combattimento Grazie a quella tattica Non ha altri blocchi Quindi non posso saltare qua Solo perché gliel'ho rotto Non è possibile Non posso credere che funzioni Guardate Sta cercando di prendere la rincorsa Ma io ormai in questa partita Mi sto divertendo contro Yoshi Non ha altri blocchi La mia tattica ragazzi Mi ha salvato la pelle Non ci posso credere Sono o non sono Io gli ho rotto un blocchetto Sapendo che lui sicuramente Non avrebbe avuto degli altri E ora deve tornare a casa Ad andarseli a comprare Non ci posso credere Ora comunque mi sono stancato Di tenerlo d'occhio Quindi se vuole andare a casa mia A rompermi A rompermi l'uovo Faccia pure Non mi interessa Non posso stare là Mezz'ora A guardare Yoshi Io che si fa I fatti miei Quindi adesso ci andiamo a prendere Un equipaggiamento migliore Ci prendiamo anche noi Un piccone Gli andiamo a rompere l'uovo E lo eliminiamo dalla partita Eh perché mica si fa così Yoshi Non puoi stare qua Sempre a gironzolarmi davanti Ci prendiamo adesso Il nostro leggendario Il metto in ferro Mettiamo tutto il resto Qua dentro Ma si dai ci mettiamo Tutto quanto proprio Ci mettiamo anche un pochettino Di materiali Perché potrebbero servire in futuro Compresi anche i diamanti Ok perfetto Guardatelo proprio Vuole continuare a venire Ora se l'hai comprato il blocco Ah no Non ci posso credere No ragazzi Dai non ci posso credere Che cosa ha fatto Non me lo aspettavo Io pensavo si fosse comprato Un blocco Che quindi provava A venire di nuovo da me Oh mio dio Ho perso un polmone Dalle risate Comunque come avete visto Quella tattica ha funzionato Io gli ho rotto il blocco E l'ho rallentato Di brutto Dovete sempre pensare A cosa vuole fare Il vostro avversario Prima di andarli contro Come un pazzo Ora comunque Io credo che lui Non si sia accorto Che sto andando a casa sua Ah no Ha leftato Ragazzi L'ho appena fatto Rage quittare Con quella tattica L'ho fatto Rage quittare Cioè si è arrabbiato talmente tanto Che non è riuscito neanche una volta A scalfirmi Che è uscito dalla partita Mio dio Certe volte mi chiedo Tra me e me Dico Cavolo sarebbe veramente bellissimo Se in qualche modo Potessi giocare contro me stesso Per vedere cosa si prova A giocare contro Kendall Perché Secondo me ragazzi Veramente faccio venire il nervoso Quando gioco Secondo me Uccido talmente tante volte La gente Che si arrabbia talmente tanto Con me Che gli viene voglia Di spaccare il computer Allora Prendiamoci una spana migliore Perfetto Spara in diamante Fatta Ora direi di prendermi anche Un altro elmetto leggendario Per il semplice fatto Che lo possiamo mettere Qua dentro la cesta Non si sa mai ragazzi Bisogna sempre prevenire Piuttosto che curare In questo modo Se dovessimo morire Se non altro Ci abbiamo già Un equipaggiamento Bello che è pronto Ci prendiamo anche Delle golden apple Perché qua In questi In queste Eggworks Tutti quanti usano Le golden apple Proprio Sono di legge Praticamente Se non le mangi È illegale Ti arrestano Vai dalla polsia E andiamo a uccidere Tutti quanti Adesso Spero soltanto Che nessuno Abbia messo Come lui Abbia messo Protezioni In ossidiana Perché sapete bene Che le protezioni In ossidiana Io non le sopporto In quanto devo ucciderlo Prima Poi farmi il piccone In diamante Blablabla E sono abbastanza Fastidiosa Come protezioni Quindi Se per favore Evitate di farle Quando siete Contro di me Mi fareste un favore Potrei andare Tranquillamente Ora a casa sua In questo modo Utilizzando Quel bel ponte Che ha costruito Pi pipì Ok Un altro poco Ce l'abbiamo fatta Proprio precisi Precisi ragazzi Guardatelo Ha messo Tutta la protezione Anche in ossidiana Bisogna stare Veramente molto attenti Con la gente Così ragazzi Uh ha fatto anche Guardate Aspettate Aspettate Si accorgerà mai Che sono qua Ma tra l'altro Sta anche rompendo Sta rompendo Il ponte Che porta a casa sua E qualcuno Lo vuole frecciare Oh mio No ci credo L'ho buttato giù Non ci posso credere Ragazzi Ma non è possibile Ma che cosa è successo Guarda Lui mi ha visto Ok Il viola lo sa Il viola lo sa E il viola sa anche Che potrebbe andare a casa mia Da un momento all'altro Quindi io nel frattempo Con questi diamanti Mi prendo un piccone diamante No Sembrerebbe che lui Voglia solo scappare Mi sono dimenticato Che ho solo 5 cuori Oh mio dio Mi sono buttato Stavo morendo Praticamente Stavo morendo Di tanto la caduta Me ne mangio un altro Perché ora verrà a combattere Oh ciao E tu pensi di poter combattere Un imperatore in questo modo Così come un pollo Come sei tu Eh no che non mi combatti così Guarda che ti conveniva Utilizzare l'arco Ti conveniva utilizzare ancora l'arco L'abbiamo eliminato Perfetto Quindi adesso teoricamente A meno che è stato previdente Come me E si è fatto una bella cesta Con tutte le cose Non dovrebbe più avere niente Vero? Me lo auguro Ora invece si scopre ragazzi Che c'ha altri 15 archi Perché vi assicuro Che lo fanno Si comprano tipo solo archi Le mettono tutti nelle ceste E giocano solo con l'arco Per tutta quanta la partita Comunque non importa Noi ci abbiamo 18 diamanti Con 18 diamanti Che cosa ci fanno? Non mi servono molte diamanti Potrei fare l'arco anche io Eh l'arco qua sarebbe bello potente Ok ci facciamo un bell'arco Con 40 frecce Non male E il resto lo mettiamo qua dentro Qualcosa mi dice che il viola È il piuttosto di tutti Piuttosto e volentieri Quindi Se io adesso Questo è il blu intanto Non c'è tra niente col viola Però non importa Noi visto che siamo qua Nel frattempo che fanno Glielo eliminiamo Certo che glielo eliminiamo Tra l'altro lui sta facendo Il bulletto con il rosso Ha appena ucciso il rosso E io gli ho appena rotto il letto Bene Quindi adesso ragazzi Io c'ho ancora il letto Perfetto Il blu si trova a casa del rosso Come vedete là sotto E lo potremmo andare a uccidere Perché ora è un pochettino bloccato E non mi aspetterà sicuramente Qua nell'isola del rosso Adesso mi ha visto però Quindi mangiamoci una golden apple Prima che mi veni ad attaccare E andiamolo a prendere Di botte No dove vai Dove Ehi Ma me la sono mangiata la golden apple Ma non me la sono neanche mangiata Oh mio dio L'abbiamo ucciso lo stesso Ok non mi ero mangiato la golden apple Mi ero dimenticato di mangiarla E là c'abbiamo il nostro amichetto purple Che si sta facendo tutto l'equipaggiamento Ehi Purple Torna subito qua Dove pensi di poter andare E soprattutto Io come mi collego L'isola del purple Visto che non c'è alcun ponte Mi potrei prendere un ender pearl Però non importa Perché tutti quanti Sapete bene ragazzi Che io gioco per divertirmi E per registrare un video Non gioco per vincere Perché non c'è soltanto La vittoria nella vita No Ehi Ciao vuoi combattere? Vuoi combattere? Io non te lo consiglio Però se lo vuoi Se lo vuoi proprio così tanto Ciao Mi dispiace Sei appena morto Ok possiamo andare adesso A casa sua immediatamente Perché non dovrebbe più avere niente La gapple non c'è bisogno Che la mangio Dobbiamo essere molto scaltri E veloci Guardatelo Guardate il purple ragazzi Che è lì con l'arco Che mi aspetta E io ora sapete cosa faccio? Guardate cosa faccio Mi mangio questa Mi butto qua davanti E adesso gli rompiamo tutto quanto Mi dispiace Ma il tuo uovo È appena stato eliminato No 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 Lasciami stare Lasciami stare Fammelo rompere Ehi Si è buggato Si è buggato Non ci posso credere Mi sono buggato anche io Manca un culetto di macaco Ok glielo abbiamo rotto Oh mio dio Mi ero buggato per un secondo Ora sicuro ragazzi Il purple Il viola Sta andando a casa mia Mi sta rompendo il mio E lui nel frattempo Pensa di poter scappare Pensi di poter scappare Dalla furia di kendal Ma in realtà non hai ben capito Che kendal c'ha un arco E ti prende E ti ammazza Bene ciao È stato eliminato Quindi ora è un uno contro uno Il viola C'ha un vantaggio Incredibile Nei miei confronti Perché casa mia È completamente scoperta Vi dico la verità ragazzi Me lo auguro Che vada a casa mia Il viola Perché se ora lui va a casa mia Io ho il tempo di andare a casa sua E quindi gli posso anche rompere Il suo ovetto Però io non ho molti blocchi E soprattutto come mi collego Uh Posso collegarmi al centro Quindi se lui ha fatto questo ponte Sicuramente è già a casa mia Ed è pronto No È ancora a casa sua Ma che stai dicendo Ma cosa sto facendo là Oh no Non mi dire che Non mi dite che ho a che fare Con un camperino Con uno di quelli che sta lì Per dieci minuti con l'arco Non me lo dite eh Non voglio Non voglio assolutamente Giocare contro uno così No Mi rifiuto Mio dio No Non è giusto Ma perché ho a che fare Sempre io con gente così Io odio i camperini Non lo lascerò lì camperare Per tutto questo tempo Non ne ho tantissimi diamanti Però ne dobbiamo prendere Degli altri Dobbiamo prendere Dell'altro cibo Delle altre apple Eh Anche degli altri blocchi No vabbè i blocchi ce li ho volendo Quindi non mi servivano più di tanto Comunque Abbiamo ora 8 golden apple Abbiamo dell'altro cibo Non dobbiamo far altro che aspettare Di avere la bellezza di 64 diamanti Con 64 diamanti ragazzi Ci possiamo prendere un ender pearl Andare a casa sua E fargli capire Che camperare Non serve assolutamente A niente Non dovrei andargli contro Io dovrei semplicemente Farmi gli affari miei E aspettare tutto questo Ed è appena morto Guardate c'è scritto in chat Che pensava di poter sopravvivere al void È caduto Ora Qualcuno mi spieghi Gentilmente Come ha fatto accadere questo pollo A meno che è una trappola Non mi dite che è caduto apposta Ha messo tutta la roba Nell'inventario E così io penso Ah così gli posso andare contro Perché non ha più niente Vabbè comunque Trappola o non trappola Io c'ho l'ender pearl E ora tu sei praticamente morto Oh mio dio Era una trappola Mi stavo aspettando lì con un'arma E ti rompo L'ovetto Mi dispiace Tu sei andato E ora sei stato eliminato Dalla partita Indovinate un poco Chi ha vinto Kendall Il grandissimo Kendall E ringraziamo tantissimo Joe Che mi ha supportato Dall'inizio alla fine Vai e vinci Imperatore Kendall Magno Grandissimo Joe Ragazzi Se vi è piaciuta questa partita Ovviamente lasciate un bel mi piace E condividetela a tutti quanti I vostri amici Abbiamo fatto delle azioni Fin troppo epiche Dal vostro Kendall Imperatore È tutto Mi raccomando Andatemi a seguire su Instagram Troverete il link Qua sotto in descrizione E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao